Ci siamo, possiamo accedere alla nuova parte, bentornati su Iscription, su quello che ad oggi dovrebbe chiamarsi Relax, speranza di non aver fatto spoiler. Bene, Robocecchino, andiamo a vedere... questo ce n'ha tre addirittura. Ah ok, ti da tutte e due, quindi il contenitore è vuoto in realtà, ti da due contenitori, ottimo. Questa cosa è tanta roba. Possiamo mettere qua il Robocecchino. Un contenitore vuoto. E non è guarda. Sbagliato. Sbagliato. Ok, ho sbagliato perché non mi è mai capitato. Lo c'è fresco. Lo c'è fresco. Ma che sa che serve? Ora distruggeremo le due carte. Non farei idiota, è meglio che riceverne una nuova. Rene il tuo mazzo più coerente. E ti darò in cambio delle robe genite. Quali distruggi? Ma no, perché? Non voglio distruggere adesso un mazzo che funziona. Vabbè, questo. Non è sette robe. Ok, io non mi sono ancora mai al Zalma. Ma... Io questo qui non lo conosco. Non so chi cazzo sia. Non so perché non stampa. Che è bloccato, capito? E poi c'ho questa cosa qui che non ho capito. Se l'ho stappato... L'ultima volta. Non ho ben capito a che serve questa roba. Comunque, se andiamo a fare un giretto di qui... E accorgere... E accorgere... Fa le fotine. Ah! Che cazzo c'è? C'è una porta e questa è la porta che abbiamo visto. Questa è la porta. Quindi c'è tutto il materiale del vecchio studio. E qua è chiuso. Non so cosa... Non so cosa fare qui, capito? C'è un'altra situazione da attenzionare, ovvero di qui. Però, detto sinceramente, non ho ancora capito come funziona. Sono arrivato a 4. Ma non so proprio come farla arrivare a di più. Non so proprio come farla far andare di più, perché... Perché questo non si può muovere, quindi... Sono bloccato. Non lo so. Questo l'ho aperto. Ho preso una carta. Niente, stavo qui. Volevo farvi... Vedere anche questa roba. Vediamo chi ci sta. Stampante di contenitori non mi serve. Ho una donazione di scudi. Loading 666. Ho trovato questa vecchia foto di quando io ed El abbiamo iniziato a giocare ad acquar... A... Acquaromani. Acquaromani. Radiatore branchiato. Fico. El aveva una... Luccio Cesare. Non pensavo l'archista avrebbe tirato fuori questo file. 666 giugno 2006. 666. Ma 666 ho già... Già l'ho provata a mettere. Infatti avevo... Avevo... Ho preso questa carta, ma non ho idea. Che cazzo serve? Ehm... Ehm... Oh eccolo Automa Questa è la prima volta che lo vedo Questa chi è? Ad eccezzo non piangere Sono fucile e fucile farò in fretta No No perdiamo No di nuovo Dio No eh papapam Beh, sono stato molto veloce qui Questo non è facilissimo Invece è buono Soltan fa questi volanti, mo' è un bordello Ok Ah, la sveglia C'è chi ne è tanta roba C'è chi ne è? C'è chi ne è? C'è chi ne è? Papapam Beh, gli ho fatto Una sparata di gruppo proprio Ok, abbiamo salvato Non uso gli oggetti Dimenticato un pezzo Tu hai le gambe Alzati e vai a prenderlo Mi flutto sopra il fondo Posso lasciarti proseguire Finché non ce l'ho Seleziona tutte le emozioni pertinenti dei seguenti Peschi il tuo bot energetico Peschi il tuo bot energetico Hai il massimo dell'energia Peschi il tuo bot energetico Hai il massimo dell'energia Non ho capito Non ho capito Un insetto non è sta per ucciderti Peschi il tuo bot energetico Ti peschi un robot saltellante Allora ragazzi Purtroppo Mi è cacciato il computer Quindi io stavo uscendo fuori Ma Ah ecco qui Ok Quella Mi aveva fatto uscire fuori Ok Mi si esce la somma corretta 2 più 1 2 più 6 7 8 9 10 11 12 Mi si esce la somma corretta 2 2 4 2 3 5 Più 6 11 Ok Giochetti stupidi Per bambini stupidi Eh Quale sigillo è rappresentato Questo Quale sigillo è rappresentato Questo In attesa della rete Qua non ci fa vedere niente Ehi là Il dolore è sopportabile La pressione Dopodora è piacevole E' anche Bello sapere che il maestro è vicino Il maestro Sì Qua la sua presenza Quel robot Rimbiagerà questo giorno Il dolore è sopportabile Sì Vuoi vedere che questo No eh Mi mancano gli altri pezzi Sì bene Colleghiamolo Contenitore di gemme In gioco Ok Ora si piena di gemme Darci un'occhiata Puoi cambiare il colore Delle gemme Che peschi Dal mazzo secondario Prova a prenderne una Ok Quindi mo Sono arrivate tutte le gemme Del signore Qua Un cazzo di bordello Dovremmo poi Sia una gemma Verda Menta la sua salute Sia una gemma Arancione Menta la sua potenza Una gemma Blu Diminuare Il suo tasso di energia Vedrai Quindi se io Volessi Ne so Mettere questa Tegliere doppio Vedico le cose negli angoli Si accendono Quando possiedi le gemme Giuste Vedrai Ok Quindi se c'ho una gemma Cazzo di bordello Nero Ok Ho capito Ho capito Ho capito Quindi le gemme Servono a questo Servono a diminuire Ok Gli spazi De cose Pesce Exoscheletro Minchia Ok 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 Che brutto Funziona Funziona Però che cazzo Di bordello Infatti Stie robe Si trovano Ogni Due per tre Qua in zona Devo mettere Carte basse Perché per adesso Ho tutte le carte Che hanno bisogno Di sta roba Questo E questo Questo che è Guardiamo Guardiamo Quando giochi Quando giochi una carta Che possiede Questi sigili Tutti Si trovano All'altro Del proprietario Ottengono Una nano Armatura Figa Sagarta Ok Adesso No Ho sbagliato Ma so scemo Questa è Grazie a tutti. Ok. Eh, per forza devo fare così. Ah, ho sbagliato tutto. 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 Niente raga, ci vediamo alla prossima. Ho sbagliato male. Ehm, nada male.